E ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video, siamo tornati oggi sulla serie di Granny Sarà un episodio differente leggermente dal solito perché oggi si proveremo ad uscire dalla casa della vecchia Ma prima di uscire andremo a provare, a cercare di sconfiggere la nostra vecchia preferita, la nostra amatissima Granny In tutti i modi che il gioco ci propone Alcuni metodi li abbiamo già provati, li abbiamo già testati, funzionano Ma ancora non tutti li abbiamo provati Quindi oggi, in questo video, prima di uscire dalla casa della vecchia dovremo per forza compiere questi obiettivi Let's go, partiamo! Day 1 E si ricomincia ragazzi, ancora una nuova avventura all'interno della casa di Granny Questa volta però penso che sia più leggermente difficile compiere questa avventura visto che ci siamo preimposti degli obiettivi Ad ogni modo siamo partiti come al solito e quindi cominciamo subito a cercare indizi, robe in giro per la casa Qui nella nostra stanza mai una volta che ci fosse qualche cosa, mai una volta Ok, la volta scorsa non siamo riusciti a fuggire, ci ha veramente preso da dietro, ce l'ha infilato subito il retto E purtroppo eravamo veramente a un passo, ci mancava sienno due oggetti per provare ad uscire da casa Quindi eravamo a un passo veramente, a un passo dalla nostra vittoria Allora ho fatto cadere qualche cosa ma non credo sia un problema perché lei adesso sale e va Esatto, esatto e quindi ho tutto quanto il tempo per levarmi dalle scatole Allora signori, come primo obiettivo direi di andare subito giù in cantina perché sappiamo benissimo che lei Può essere rinchiusa qua dentro, all'interno della sauna Questa è una stanza nuova dell'ultimo aggiornamento, vediamo un po' se riusciamo a bloccarla qua dentro Come avete detto che potremmo forse glitcharla Dio casino, ho fatto casino, fermi tutti, zitti tutti e questa arriva subito in cazzaca nera Potrei provare a chiuderla all'interno della sauna senza premere il pulsante per far uscire appunto Per attivare la sauna e quindi farla, stordirla là dentro Ma soltanto chiudendo la porta forse è impossibile, al 100% che lei esca di lì dentro e quindi non ci siano soliti due minuti di libertà Il problema è che lei sente soltanto quello che vuole sentire Perché io ho fatto un rumore della madonna e lei non si presenta qua sotto La macchina è completamente vuota, non si capisce sta cosa Qui c'è il progetto del fucile, ok Qua all'interno della sauna non c'è assolutamente niente Lei non si presenta qua sotto, io vorrei sapere il perché Però abbiamo il martello signori, il martello che non glielo può dare in testa questo martello, no, perché? Tiriamo giù qui Ora se lei Eccola, 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 eccola È il momento, è il momento signori, nascondiamoci qua dentro, vediamo un po' se funziona il tutto, eh Ok, non ho fatto asilo dentro la sauna, ma se lei è così intelligente da infilare là dentro, bene Ma chi è quel mona che sbatte chiudendo la porta reiterate volte così e non mi sente? Quanto mi può stare sul cazzo? Va 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 Qui davanti alla porta me l'ha messa Ti rendi conto che è poco di merda e tu sei? Ma Cioè mi devo per forza far chiappare dalla trappola per poterla togliere, perché io con i miei ditini non posso, onestamente, vero? Allora, fermi tutti, dove è andata adesso? Ok, il piano superiore Abbiamo un attimo di tempo per togliere questa Ok, mi ha visto, mi ha visto, mi ha visto tantissimo Mi ha visto tantissimo Vieni giù, vieni in cantina, vieni in cantina Vieni in cantina, ok, butta giù questo Facciamo un rumore Vieni giù, vieni giù Ecco, per forza non poteva resistere al rumore del martello che cadeva per terra Vai nella sauna Vai nella sauna Ma per forza farci cadere un oggetto qua dentro Solo che il martello mi serve a questo punto Però è l'unica cosa che possiamo fare No, 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 di fa che non mi abbia visto Entrare qua dentro, per favore Ok, ok ci siamo Entra lì Bene Blocca E adesso E adesso Granny E adesso Granny Oppure a stare troppo vicino alla porta Perché potrebbe prendermi benissimo Anche dalla parte Anche con il muro Però vedete, sì, non attivo lì No Oddio ha sfondato No Ha sfondato Devo cliccare per forza il bottone Devo attivare la sauna Devo stordirla Mannaggia Granny Mi sono cacato adesso Non ve l'aspettavo mi sfondasse la porta sui muso Merda Merda secca proprio Fanculo Fanculo Ci ha fatto praticamente un Evolevi grosso e uomo a casa Praticamente Granny Sì, eh Vedi davvero Dai su, vieni qua Adesso aprimi la porta E devo tornare in cantina Per fare di nuovo questa quest Devo per forza Riglicciarti in cantina Ho già voglia di cagare trappole dappertutto Vero signora Granny? C'è un po' di rumore Giusto per fargli capire che strade abbiamo preso E niente Dobbiamo ributtare giù per terra qua Il martello E rinascondersi Troppa E Nasconditi Veloce Ecco la sento Arriva Ancazzata nera Arriva Arriva Perfetto Ok Stavolta non possiamo sbagliare Non dobbiamo sbagliare Ok No ma non c'è più la barra Oh no 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 eh No esce 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 Mannaggia Porca miseria Porca miseria Ok si può contare come valido Si può contare come valido Per favore contiamolo come valido Non l'abbiamo stordita Ci siamo fatti fregare Dovevo premere il cavolo di pulsante Mannaggia Granny Porca miseria No è caduta Eh vabbè tanto qui sotto Non può fare Deve fare un giro lungo Per venirci Ah qui c'è il nostro amico prosciutto Ma se io lo lascio cadere No E non succede niente Cioè io posso Benissimo rinchiuderla qua dentro C'è una specie di No non c'è niente Allora Oh La manovella del pozzo Buono Ok Poi c'è La batteria L'altra volta Non l'avevamo messa la batteria Non l'avevamo messa la batteria Allora Apriamo la stanzetta Di Teddy Che c'è Teddy Soltanto Giusto Ok Sento che sta tentando Di venire da qualche parte Madonna 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 Granny Come ha fatto a venire Dalla sotto Come ha fatto a venire Dalla sotto Non può passarci Non può passarci Mi sta sfuggendo qualcosa Ragazzi Mi sta sfuggendo qualche cosa Vabbè Raccogliamo L'oggetto che è qua dentro Vediamo un po' Che cosa C'è da fuori Stavolta L'abbiamo all'interno Del pozzo Niente Niente Veramente Serio Ah no Le pinze Ok Abbiamo le pinze All'interno Ok Allora A questo punto Possiamo passare Missimo anche da qua Così attiviamo anche L'interno Qui si arriva Il cacciavite Ok Tiriamola qui va Tiriamola qua dentro Ok C'è la parte Dello shoot gun Buono Non l'avevamo provato La volta scorsa A spararli con il fucile Stavolta Dobbiamo Stordirla Anche col fucile Per forza Allora Tagliamo i fili Questo Quello Alla porta Se riesco a fare in tempo Perché lei È già qui Ok Ok Tornata 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 Allora Questi antici che serviranno Li lascio qua Andiamo a prendere Il fucile E andiamo già A metterlo giù In cantina Cioè in garage Ok Prendiamo Lo shoot gun Ok Facciamo il giro Entriamo da qui Vediamo un attimo Dov'è che è lei Lì c'è un'altra parte Dello shoot gun Ok Buono È ovunque Annoggio Granny E questo lo andiamo Ad inserire Qui Ok ci siamo Uno l'abbiamo preso Un altro è in salotto Andiamo a raccoglierlo subito Qui dentro c'è ancora il martello Ci servirà Ci servirà Per la soffitta Ricordiamocelo No Ok Eccola Un ingranaggio là dentro Ok Ricordiamoci pure quello Che l'ingranaggio è All'interno Della Del salotto Mi ha visto Mi ha visto No Via 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 Dai non sa Non sa che sono andato qua sotto Adesso non lo sa Non lo può sapere E due Ci manca soltanto la parte centrale Del fucile E ci siamo Allora Lei non si manifesta ancora Quindi prendiamo Il martello Che Eccolo qua Ok Allora qui niente E qui Niente Allora Prendiamo Questa batteria E vediamo Un attimo Dov'è che va messa E' qui E' qui No Non sono qua dentro Se adesso mi caga Una trappola qui davanti Ti prendo a sberle Così sa Negli orecchi Ta 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 Ma la cagata per le scale Ma che pezzo di merda Ok forse è andata in cucina Forse è andata in cucina Sì Ok Allora Ok Ok Andava messa lì Eccola Ok dai Raccogliamo il martello E andiamo Al piano superiore Ci manca trovare anche la chiave Per prenderci la balestra No 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 Nascondi subito 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 Entro al baule Subito Entro al baule Uh Hai pensato Di aver visto Di salire le scale E di essermi nascosto Qua dentro Hai pensato Di vederle Basta Uno Due Tre E giù Qua per forza E cagata la polia Non importa Tanto passo dal bagno Allora Il problema È che lei adesso Sempre per le scale Se io adesso Prendo Questa Lascio cadere il martello Abbiamo trovato anche L'ultima parte Dello shotgun Grande Grande Allora Velocemente Allora A questo punto Possiamo fare una cosa Prendere la parte del fucile Tornare giù di sotto Prendere il fucile Raccogliere i proiettili Sparargli in pieno volto Tornare su con Teddy Questo è l'obiettivo Che possiamo fare adesso Atteriamola qua sopra Eccola 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 Controlliamo se a volte c'è il melone Se c'è qualcosa C'è la chiave Ok Mi sembrava che fosse La chiave Della Dell'armeria Se non sbaglio Se non sbaglio Ok Dai 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 Sì ci siamo Possiamo prendere il fucile E sparargli nel buzzo Ah Shootgun Posso caricarlo Dai Uno alla volta Davvero Dove sei Granny Ti sto aspettando Qua ma che se mi muore Sopra le scale Poi mi glitcha ogni cosa Dai Sto facendo un casino Della madonna Dai Vieni giù Vieni giù Qua Eccola Sento i passi Sento i passi BAM Bene Bene Grani snowgown Per due minuti Due minuti Di intero Gameplay Libero Allora Purtroppo Questa cosa però Non mi piace Il fatto che Comunque Un fucile È molto più potente Del Di una balestra O quant'altro Quindi Sono me Era molto meglio Più realistico E commettere più minuti Come Come libertà Ecco Non so Vabbè Il risultatore Non sono io Quindi D'altronde Prendiamo Il nostro Amico Teddy Se si Batti 40 Cavolo Ti pare Tanto Lei è Sordita Non ci Viene A Rerompere Le balle No No Ce la farò Ce la farò A buttarlo Dentro la Colla Eccolo Grande Mus 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 Mdrina E menomale Non ci Prende Lei È soltanto un ologramma, un ricordo, un qualcosa Meno male Allora, senza cadere di sotto Allora, qui c'è la telecamera e possiamo distruggere così Perfetto, così In questo modo lei non viene A rompergi le palle Visto che Le pinze, dove sono? Ho lasciato le pinze in cantina È tornata, l'ho sentita È tornata la vecia Non io sto facendo sto casino Ecco la vecia, ecco la vecia Vai, vai, vai là Tiè, tiè No, 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 no Uff 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 Piano Oddio, il culo stretto per quando passo di lì ogni volta Ok 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 Andiamo a tirarla qua sopra per andare in bagno Eccola, eccola, eccola Dove era l'altro ingranaggio? Dove era l'altro ingranaggio? Dove era? Dove era l'altro ingranaggio? Ah, è qui in sala Ok, 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 ok Era qui Possiamo prenderlo subito È qui Allora Verocemente facciamo una magia Troppiamolo subito Prendiamo anche il secondo Subito fuori Subito 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 Ok Uff Ok Lasciamoli qui entrambi Bene Eccola, sta arrivando Il culo Questo c'era già da prima? Sono cieco allora Sono completamente cieco Ok, bene Bene, ce l'abbiamo No Aiuto No, 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 no Scherzo io, eh Allora, qualcosa Seramente si nasconde qua in cucina Il melo È il melone Il melone Grande, 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 grande Grande Vai, 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 vai Corri, corri, corri No, non è vero It's second Mi piacerebbe fare la tua capoccia, vedi Master key Però questa cosa ci serve alla fine Ci serve alla fine Oh Oddio, era già aperta la porta Via, 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 via È già tornata Ok, droppa la chiave qui Tanto ci servirà dopo Via di qui Via di qui adesso In cucina non c'è nient'altro Preciso Ci, porca miseria Porca miseria Porca miseria Ci ha circondato i trappoli La cagate ovunque La cagate ovunque Siamo al terzo giorno E ci manca ancora da stordirla Con la balestra Dobbiamo andare a prendere la chiave in bagno Quella credo sia la chiave dell'armeria Prima di fare stronzate Perché in bagno non c'è via di fuga Ok No, è la car key E si assomigliano tutte Ecco, fa cadere le cose E poi si incazza subito con me Capito? L'intelligenza di Granny Allora, suppongo che all'interno della macchina Ci sia o la safe key O padlock key Non credo ci sia niente Per se ci sia anche la weapon key Weapon key Ok No, ha fatto un cosino Bene Ok, andiamo a prenderci subito la balestra Così gli spariamo subito in mezzo agli occhi E la stordiamo per l'ennesima volta No, 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 no Così no però, eh Così no però Così non va bene per niente Dai! Dai, dai, dai Fammi vincere la partita Fammi vincere! Non puoi non avermi sentito Dritto al cuore Dai, mi si è addormentato in piedi No! Mi si è addormentato in piedi Mi si è addormentato in piedi Mi devo passare di sopra Sempre a pestoni Vi rendete conto Va bene Altri due minuti di libertà per noi Ok, grande Ragazzi, è il primo colpo Incredibile Allora, cacciavite Subito andiamo a usarla all'esterno Così disattiviamo anche l'altra cosa Che suppongo sia Una leva che serve appunto Per sbloccare la porta In qualche modo Non so come Ma sicuramente serve per quello Che altrimenti Non saprei Che altrimenti serve Insomma Cade E tiriamo la leva Ok Buono Buono Adesso il cacciavite Andrò a prendere O la safe key O la padlock key Ma suppongo Che prenderò la safe E all'interno Della cassaforte Ci sarà appunto La padlock E poi Credo che abbiamo fatto Tutto quanto Dovremmo essere pronti Credo Non mi viene in mente Non mi viene in mente Vedi Ci serve ancora La chiave Della sala di giochi Della playhouse Allora aspettate Può darsi magari Qui dentro Ci sia o la safe O la playhouse Safe key Bene Almeno è già qui Almeno è già qui Qui a questo punto Ci sarà sicuramente La playhouse Questi esco fuori Metto l'ingranaggio All'interno E dovremo essere Pressoché pronti L'interno ci sarà sicuramente La padlock key Playhouse Grande Vedi Vedi che Comincio a conoscere bene Questo bel giochino Vedi ormai lo conosco Due minuti Penso che siano Forse passati Lo so Allora Prendine uno Mettiamolo lì Prendi il secondo E mettilo qua E' tornata Tornata Ok Ma Ci sono altri proiettili Qui Non li avevo visti Non li avevo visti Oh Fermi tutti Fermi tutti Ho cambiato il finale Se metto teddy Nella culla C'era slendrina Sulla porta C'era slendrina Sulla porta E granny Caccarezzava Il suo teddy Oh Oh Benone signori Abbiamo vinto Ultimamente Contro granny Siamo usciti di casa Abbiamo stordito In tutte le maniere Tranno ovviamente Nella sauna Ma l'abbiamo fatto Nel video scorso Quindi spero Che comunque conti lo stesso Quindi ragazzoli Appena uscirà Un prossimo aggiornamento Allora ci sarà Faremo un nuovo gameplay E vedremo Quali saranno le cose Che avranno cambiato Nel prossimo gioco Come al solito ragazzoli Se anche questo video Vi è piaciuto Vi lasciare tanti Tanti like E noi ci vediamo Nel prossimo episodio Ciao a tutti ragazzi Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti